Iniziamo con il Marmaid. Roberta è posizionata in ginocchio, una mano la sistemo sulla pedaliera, mantengo bene la posizione, inspirando porto il braccio sinistro verso l'alto, cresco e mi allungo, fuori l'aria, abbasso la pedaliera ed effettuo una flessione laterale. Da questa posizione, inspirando cresco, cercando di aprire lateralmente la cassa toracica ed espirando riporto su, crescendo e attivando la spalla, rimane rilassata. E ancora, inspiro, cresco e mi allungo, fuori l'aria e ritorno, controllando sempre la mia spalla. Inspiro, cerco di aumentare l'apertura laterale, espirando, ritorno e vado con l'ultima ripetizione. Inspira, cresco, mi allungo bene. Espiro, crescendo, allungandomi verso l'alto, riporto la pedaliera in posizione senza portare sulla spalla. Perfetto. Da qua Roberta viene in piedi, si allinea sempre lateralmente alla chair e va ad effettuare un roll down asimmetrico. Lunga, inspiro, porto le braccia verso l'alto, cresco e salgo in. Un tuffo, espirando, arrotondo bene, partendo dal capo, arrotola e scendo, fino a trovare con la mano destra la pedaliera e a continuare la spinta verso il basso. Il bacino rimane perpendicolare ai talloni e scendo bene, scendo e spingo, senza spostare il busto, cercando un'attivazione maggiore, in questo caso, dell'obliquo destro. Da questa posizione inspiro ed espirando, arrotolo bene la colonna e risalgo. E di nuovo, inspiro e scendo, arrotonnando bene il pube e tutta la colonna, fuori l'aria, risalgo e riallinea bene. Ancora, inspira, scendo, tengo l'allineamento, fuori l'aria, risali completamente, mobilizza vertebra dopo vertebra e cresci e ritorno in posizione. Allunga, cresco e riallineo tutto. Perfetto. Da qua togliamo la pedana e Roberta si posiziona di fronte alla chair. Posiziono le mani in maniera simmetrica, uno e due, e scendo, porto giù la pedaliera. I piedi sono in appoggio sull'avampiede, tutte e due salgono, rilasso le spalle, pancia dentro, attiva bene l'addome, inspira, guardi il pube, espiro e provi a salire. Benissimo. Ancora, inspiro, cresco, fuori l'aria, arrotondo bene. Benissimo. Inspira, espiro, scava e sali. Solo un'altra ripetizione. In, espiro e cresci e sali bene. Inspiro, appoggio e lentamente scendo, accompagno e riporto sulla pedaliera. Grazie. 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 Grazie.